Ad un certo punto della tua vita tu hai scoperto una barzelletta che non conoscevi perché la premessa qual è? Che un barzellettiere come Giuseppe francamente le barzellette le conosce tutte. Cioè tu non gli puoi dire a Giuseppe la sai l'ultima ti racconto quella di... Diciamo che è particolarmente difficile trovarne. Però un giorno, un bel giorno, dopo 23 anni di lavoro together, insieme... E io ci ho provato i 23 anni a condarmi una barzelletta che non sapevo. Ma la sai quella del... Ma la saccio. Ma la sai quella? No questa finisce così. Un bel giorno invece... Un giorno mi ho condato una barzelletta che io non sapevo. Ma ce l'hai? No la racconti tu, la voglio, la racconti tu sì. A un certo punto... Sì, dai. È di Salvorarosa questa, io non c'entro. A un certo punto c'era questo catanese. Ecco scusatemi, prima di fartela raccontare, quello che lui ha detto lo dice tutte le sere durante gli spettacoli. Vi racconto, vi porto i saluti... Quando siamo insieme la raccontiamo insieme. Ma quando è da solo, lui dice, vi porto i saluti di Salvorarosa che mi ha raccontato questa barzelletta. E poi dice, io non voglio responsabilità. Non c'entro. C'è una minchiata, dico io. La colpa non è mia. Giustamente poi parte sempre la colpa. Allora, pubblico di TGS e di RTP, questa barzelletta è mia. Io non c'entro. Se ridete, sono contento. Se non ridete, pazienza. Colpa sua. Vai, vai. Un catanese, salvo per sapere doveva partire, doveva andare a Milano. Ora il mezzo più veloce per andare a Milano è l'aereo, no? Che noi chiamiamo l'apparecchio, giusto? Ora, come tu sai, Salvo, come tu sai, ma c'è un tasto dopo. Certo che la so. Per prendere l'aereo bisogna fare tutte le camurrie, il metal detector, bisogna lavarsi i soddespici, i gioiella, l'arendera, insomma, tutto chiedo che fa suonare il metal detector. Dopodiché questo arriva finalmente al suo aereo, va per mettere upere per sasere in questo aereo e improvvisamente si sente dopo le aree andata a spada, da dietro, come se lo chiamasse qualcuno, no? Si è vuota e non c'era nulla. Ma ci sarà impressione mia, no? Va per entrare di nuovo e si sente una uscola dopo le aree, all'improvviso, dal nulla, dall'alto, una voce. Saro! Ma qui? Saro! Non do pigliare st'apparecchio! Ma io e se chi? La Milano? Non do pigliare st'apparecchio! Oh, senti? Giustamente, ora, dopo una voce del genere, uno non è che abbatta con l'apparecchio e si fida più tanto. Giustamente, uno ci credo, non ci credo, ma quando cosa va addosso, se va. Pogliava la valigia, gli tornava a casa. Uscendo dall'aeroporto, gli avete l'aereo suo, il Catania-Milano, che improvvisamente, dopo aver decollato, gli perde quota. Da Pandaletta, da tutti i morti, la voce gli aveva salvato la vita, no? Però gli sta a Milano, c'è a paghieri, per cui la settimana dopo diceva, vabbè, l'aereo non mi piglio più, mi piglio il reno. Tanto che ci vuole, Catania-Messina, sette ore e mezza, e poi è tutta natalata, no? Poi il biglietto, non c'è, arriva alla stazione di Catania, va per mettere l'opera nella scaletta del suo treno, e si sente tutto l'aereo andando alla spada. La voce, Saro, ma cos'è? Saro, non devo pigliare sto treno. Ma io, egli era a Milano. Non devo pigliare sto treno. Lo senti? Dopo ho fatto la nave, se poteva pigliare mai. Dopo ho fatto l'aereo, no? Per cui giustamente decida di tornare a casa, appena torna a casa l'indomani mattina, al telegiornale Prima Notizia, un macchinista dopo il treno, non mi sto usciti, Missina, io eravamo a morire qua il treno. Che ha solo in Italia, poi muore ranniato solo in Italia, qua il treno, giusto? Ma tosta che la voce gli aveva salvato la vita due volte. Ma io sto a Milano, c'è a paghieri, per cui la terza volta, la terza settimana, dice, vabbè, l'aereo non mi piglio più. Il treno non se ne parla, mi prendo la nave, arrivo a Genova e poi mi organizzo, no? Basta, fa un biglietto per la nave, arrivo al porto di Catania, va per metterlo per andare a scaletta della nave e si sente dopo l'aereo andare a spada, la voce, Saro, ma, ma uè, Saro, non dai pigliare sta nave. Ma io ero a Milano, non dai pigliare sta nave, lo senti? Io dopo Saro non ne può dire più. Dice, ma re, non faccio così, non faccio un'esì, ma quando mi amare dai, un'imingheri. Esatto, questa è mia, eh. Salvo la rosa, scoppa. Questa è mia, va bene.